Cosa si prova ad essere un simbolo? Un simbolo di che? Un simbolo della rivoluzione. Nel gennaio del 1959, quanti anni aveva? Avevo trent'anni. La nostra lotta è una lotta fino alla morte! Hai una barca? Denaro? Non ancora. Uomini? Siamo riusciti a farne passare trenta in Messico. Credi che sia pazzo? Un po'. Voglio che ti incarichi personalmente dell'addestramento delle nuove reclute. Un popolo che non sa né leggere né scrivere è un popolo facile da manipolare. Questa è una rivoluzione, non un colpo di stato. Hai ancora questo complesso dello straniero? Te lo devi levare. Sei un cubano e un rivoluzionario come tutti noi che stiamo qui. Sono il comandante Ernesto Guevara. La lotta si intensificherà. Patria o morte! Patria o morte! Amore per la giustizia e per la verità. Viva Cuba libera! Yeah! Amore per la giustizia e per la giustizia. Anzi... Grazie a tutti.